Capolinea per i mercati finanziari classici che stanno andando verso una super recessione nel 2024, Standard Plus 500, i mercati americani, Nasdaq 100, tutte le tecnologiche, Apple e chi più ne ha più ne metta, è vera questa cosa? Cosa dicono i grafici? Che cosa ci dice l'analisi ciclica da questo punto di vista? Ci sta dando una direzione e un'informazione epocale, fantastica, importantissima ed è molto anche importante andare a ragionare perché in questi momenti, a prescindere da alcune tipologie di idee che noi ci facciamo, poi quello che parla è sempre il grafico che ci dà un'indicazione anche perché no relativa al fatto se il 2024 sarà un anno di ipercrisi o quel che sia eccetera. Bene ciao a tutti, bentornati su questo nuovo video e tra le altre cose ragazzi è importantissima questa informazione legata ai mercati classici anche per la questione delle cripto, anche per la questione del bitcoin perché sono legate a doppio filo da qualcosina che si sta iniziando a muovere, non in questione di correlazione che vi ho spiegato anche n volte, non c'è correlazione tra i mercati cripto e bitcoin, c'è stata in gli ultimi due anni 2020-2022 per via delle emissioni di liquidità che avevano pompato gli indici, come abbiamo visto questa è Standard & Poor's 500 nella super mega bolla degli indici azionari e anche un po' delle criptovalute però questa correlazione è venuta meno perché si è andata a scaricare le ritornate più o meno su livello naturale ecco infatti il grafico della correlazione di bitcoin con Standard & Poor's 500 si vede in maniera evidente che dal 2020 c'è stata una fuoriuscita dal suo naturale range che è tra 0,2 circa e meno 0,2 in questa fascia qui e questa è storica dal 2015 guardate come bitcoin è in pratica in una struttura di non correlazione, cioè nessuna correlazione e però in questa zona è stato fuori da questa struttura, ora sta rientrando nella sua naturalità quindi quello che vedete ora sui mercati con i mercati cripto che sono in una fase positiva soprattutto bitcoin e i mercati classici no, è naturale, non è anomalo, non c'è una straordinarietà ma i mercati classici ci stanno dando un'indicazione e oggi andiamo a fare quindi questo super mega video di analisi di lungo periodo su Standard & Poor's 500, Nasdaq 100, il gold che lo mettiamo nel cesto perché il gold è una, cioè l'oro è una di quelle, di quegli asset che sta dando un'indicazione che potrebbe essere la più strettamente legata anche all'eventuale andamento di bitcoin perché da un certo punto di vista hanno un leggero legame e in questo ci potrebbe dare anche una strada per l'eventuale cripto nella 2024 allora io già vi spiego, vi dico che tutta questa analisi si svolgerà andando a utilizzare l'analisi ciclica di lungo periodo ragazzi, per chi non sapesse che cos'è l'analisi ciclica, io ne parlo tantissimo sul mio canale comunque è un'analisi del tempo, non è un'analisi sui prezzi, è un'analisi che definisce i cicli di mercato cicli di mercato che trovate praticamente nel sistema economico ovunque ma anche nella fisica dell'intero pianeta Terra, insomma, universo che sia trovate la struttura ciclica un po' ovunque ma nell'ambito a noi ci interessa quello economico i cicli economici sono degli andamenti di up e down della normale fase ciclica ogni asset nel sistema economico ha dei cicli che si vanno a ripetere quindi delle fasi cicliche utilizzando questo tipo di analisi è possibile andare a avere un'informazione statistica aggiuntiva che possiamo utilizzare in base al concetto che quando inizia un ciclo l'asset in questione può avere una tendenza rialzista quando finisce un ciclo di solito ha una tendenza ribassista utilizzando questa semplice informazione abbiamo un'arma in più per andare a comprendere eventualmente la probabilità di movimento di un asset finanziario quindi oggi utilizzeremo l'analisi ciclica so che molti di voi la conoscono già ma c'è qualcuno che magari si sta affacciando nuovamente a questa per la prima volta a questa materia e ovviamente non conosce diciamo questi ambiti ragazzi un ciclo alla fine giusto per darvi la struttura è creato in questo modo questo per esempio è un ciclo mega galattico di standard impulse 500 dove ha avuto una super fase rialzista per tanto tempo e poi una fase ribassista di chiusura attenzione che poi all'interno dei cicli ci sono i cosiddetti sottocicli che hanno e indicano poi delle fasi ribassiste e rialziste di breve periodo quindi short term e di altro tipo allora oggi useremo questo tipo di analisi la cosa più importante è l'analisi di lungo periodo quindi l'analisi dei sette anni ragazzi perché quasi tutti gli astet che vedremo oggi producono cicli settennali che è un ciclo che si ripete con grande facilità ma prima di andare avanti ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ovviamente cliccate il bottone subscribe e poi ragazzi lasciatemi mi piace su questo video per farmi capire se vi interessa anche questo tipo di materia che secondo me è stratosfericamente importante su quei pollici distruggete come si dice il bottone dei mi piace mi date una mano con youtube cresciamo insieme al grande allora questa fase qui ragazzi in pratica noi la iniziamo dalla più grande crisi del posto rivoluzione di internet quella del Muti Subprime 2008-2009 e SP500 inizia il suo intanto fa una delle campane ribassiste dopo quella della bolla di internet più difficile, più dure, più drastiche degli ultimi anni guardate qui meno 50% standard plus 500 e poi meno addirittura qua in questa fase anche di più meno 57-60% la versione dei Muti Subprime standard plus 500 è anche un indice di borsa noi stiamo analizzando il future ma è un indice di borsa estremamente diversificato con all'interno 500 titoli più capitalizzati al mondo quindi capite bene che un ribasso e una volatilità di quella levatura è stato un disastro apocalittico ragazzi giusto per farvi capire che cosa eravamo era successo in quel periodo per chi di voi magari non ha la memoria magari non ha memoria perché magari era troppo piccolo allora in questa fase qui SP inizia un ciclo settennale circa 2.500-2.600 giorni un ciclo di 7 anni che poi è andato a concludere nel 2016 circa da lì è iniziato l'altro ciclo settennale di standard Eports 500 un ciclo settennale che ha avuto la sua conclusione proprio pochi settimane cioè un annetto fa pochi mesi fa 2022 ottobre 2022 quando i mercati sono andati in down e hanno toccato il punto più basso post pandemia facendo comunque un ribasso non importantissimo ma comunque rilevante meno 27 30% tutti gridavano al disastro apocalittico gridavano all'arrivo della gestione imminente il disastro sta arrivando eccetera ma i grafici non dicevano questo perché dicevano che sì c'era ancora tempo magari di poter fare nuovi minimi perché l'analisi ciclica ragazzi non ci dà una previsione sul minimo quindi sul prezzo ma ci dà una previsione temporale ci diceva che qui eravamo a 2440 giorni circa e che quindi il tempo iniziava a stringere e doveva iniziare una nuova fase probabilmente di 7 anni quindi potevamo tranquillamente avere altri 100 200 giorni di discesa questo è ovvio ragazzi però in ogni caso poi a un certo punto sarebbe iniziato questo nuovo ciclo settennale che doveva iniziare con una fase rialzista ed è esattamente quello che è avvenuto ora io questa analisi non la ripeterò su Nasdaq perché è nella stessa identica situazione ma è giusto per farvi comprendere ragazzi come teoricamente se questa analisi è giusta ancora non è proprio sicurissima al 100% perché è un ciclo di 7 anni ha bisogno di 1-2 anni almeno di evoluzione noi in questo momento però abbiamo una prima indicazione molto importante cioè abbiamo un annuale di Nasdaq di S&P 500 che è già iniziato il 22 ottobre e si sta chiudendo in questo periodo ragazzi ed è proprio in questa fase che stiamo andando a chiudere la struttura ciclica annuale sia di S&P 500 sia di Nasdaq che vedremo e questo teoricamente prelude anche alla possibilità di un inizio nuovo di un ennesimo ciclo annuale che potrebbe essere addirittura quello che ci fa superare i massimi storici proprio di S&P 500 solo di essere una voce fuori dal coro attenzione perché adesso vi spiego che ci sono anche delle possibilità che questa cosa non avvenga e vi spiego anche come andarle a trovare però l'analisi ciclica ci dice che noi siamo in una fase in cui tra qualche settimana un mesetto eccetera potrebbe iniziare un nuovo ciclo annuale e questo ciclo annuale andrà monitorato perché può con tranquillità fare nuovi massimi e a livello di analisi di teoria di analisi ciclica di analisi tecnica di pricing sui mercati non ci sono vincoli di sorta che possano indicare l'inizio di una catastrofe in questo momento poi è possibile che ciò avvenga ma è impossibile prevederlo ora ora quello che noi andiamo ad analizzare che sono dati attuali cioè quelli che sono gli andamenti attuali del mercato ci dicono che in questa fase un eventuale punto di ripresa potrebbe addirittura fare un nuovo massimo allora vi dico poi anche l'atto negativo diciamo di questa cosa qui allora teoricamente questo ci indicherebbe che i mercati finanziari classici non sono per niente al cosiddetto capolinea in realtà ma che hanno bisogno almeno di altri due tre mesi per comprendere se questa fase rialzista la vogliono fare o no perché qui il dubbio ragazzi vi ripeto l'analisi ciclica ci dice inizia una nuova fase ma non ci dice se questa fase sarà iperforte o meno ci dice solo inizia una nuova fase poi il resto dipende dall'analisi fondamentale macroeconomica relativa appunto ai mercati finanziari c'è sicuramente l'analisi macroeconomica che è la fatta padrona la questione inflazione eccetera però teoricamente dovremmo tenere a mente che la possibilità che inizi tra poco un ciclo annuale c'è 378 giorni il precedente ciclo annuale era durato 378 giorni tutto ribassista che vedete qui qui in pratica a momenti dovrebbe iniziare una nuova fase ciclica una fase ciclica che ha queste due strade ragazzi e lì si può monitorare iniziare una fase rialzista e la vedremo subito appena inizia una fase mini rialzista anche se è piccola che ha l'obiettivo di superare questa zona e poi questa zona oppure se questa fase rialzo non riesce ed è questo il punto negativo a superare questo punto di massimo questo punto di massimo qui allora lì solo lì quindi fra qualche mese 3-4 mesi almeno avremo le idee di un possibile eventuale rischio importante per i mercati finanziari classici rischio che ad oggi ad esclusione del fatto che c'è la recessione che sarà indotta e che quindi la vogliono ma attenzione ragazzi una recessione indotta potrebbe anche consistere in un mercato in lateralità per 6-7 mesi che non non prelude a una disastro ecco questo è il discorso però una fase del genere potrebbe essere anche indicativa di una fase poi rischiosa cioè solo dopo che abbiamo visto fare una gamba rialzista dopo questa qui che non ce la fa come si suol dire ad arrivare al di sopra di questi livelli allora lì possiamo iniziare a preoccuparci ma ci varrà vi ripeto sicuramente gennaio febbraio del 2024 e anche direi marzo per comprendere questa cosa c'è solo un'indicazione di analisi tecnica negativa molto negativa che vi faccio vedere ed è veramente la più difficile e cioè questa struttura qui la struttura di rimbalzo che deriva dai livelli di Fibonacci e che ha molta affidabilità di un rimbalzo di un trend ribassista che è avvenuto in questo caso che tocca il 78,6 di Fibonacci e poi inizia la discesa questa figura questa figura è una figura che io adoro di inversione classica si chiama Gatekeeper la trovate spiegato online perché è di un famosissimo trader americano e in pratica ci dice questo che questo qui è stata una gamba B dell'eventuale C che dovrebbe arrivare allora qui non sono non è una pattern che ovviamente ha il 100% di probabilità di andarsi a verificare però il rischio c'è quindi teoricamente prima cosa da fare attendere l'inizio del nuovo annuale per quanto riguarda i mercati classici seconda cosa da fare monitorare questo livello di pricing cioè 4.650 per quanto riguarda standard e pulse 500 se non viene toccato entro i prossimi 2-3 mesi e non viene superato questo livello il rischio che questa figura di inversione che vi ho appena mostrato definita gatekeeper si vada a delineare diventa enorme e attenzione anche al minimo eventuale del ciclo annuale ma di questo ne parleremo va bene allora mi sono dilungato su SP500 perché Nasdaq sostanzialmente è molto simile quindi io poi volevo farvi vedere semplicemente darvi le spiegazioni su una strumento e poi passare al successivo per darvi una linea di un punto di vista generale mentre l'oro non è per niente così ragazzi e l'oro sarà interessantissimo andarlo a vedere lo facciamo fra pochi minuti andiamo a vedere intanto guardate anche i livelli insomma che avevo già indicato anche qui mi ero già segnato alcuni dettagli appunto questo gatekeeper che si stava andando a verificare però vi faccio vedere la struttura teorica anche qui dei cicli allora io Nasdaq lo seguo di più di SP500 dove non ho praticamente nulla io sono molto più tech ovviamente quindi mi piace fare queste cose e perciò ragazzi ho delle strutture un po' delineate un po' più di breve periodo comunque 2443 giorni stessa cosa teoricamente qui è iniziato il nuovo ciclo settennale vi aggiungo un'informazione che prima non vi ho dato questo ciclo settennale che effettivamente dovrebbe essere iniziato a ottobre 2022 ha una zona di chiusura nel 2029 quindi a cavallo dal 2029 2030 e questo è molto importante ragazzi perché ve lo spiego un eventuale break di questo minimo del 2022 che dovesse avvenire nel 2024 in oltrato sarebbe pericolosissimo perché potrebbe indicarci che l'intera struttura dei mercati azionari poi diventa effettivamente tendenzialmente laterale ribassista fino al 2030 questo è il concetto che c'è dietro allora questa cosa la potremmo scoprire vi ripeto solo fra qualche mese quindi a me non piace andare a fare catastrofismi se i miei prezzi non ce lo indicano però la possibilità c'è la possibilità c'è ma non è ancora data dai grafici cioè noi non la vediamo cioè la possibilità esiste come sempre esistita diciamo così ma in questo momento i prezzi non ci stanno dicendo né più e né meno di quello che ci dicevano qualche tempo fa qui si sta chiudendo il ciclo annuale di nasdaq dobbiamo attendere l'inizio della nuova struttura ciclica annuale di nasdaq che deve superare questi massimi uno e due se lo fa mettiamo nel cartone diciamo e accantoniamo questa più ribassista per i prossimi due anni e poi se ne parla perché palla al centro e chi si è visto si è visto si riparte dal centrocampo perché ragazzi non si possono fare previsioni da quei prossimi vent'anni non lo sa non lo fa neanche la fed non lo fa neanche le banche centrali non riescono a farlo figuriamoci noi però si può ragionare e qui stiamo ragionando insieme e dicendo che in questo momento essere estremamente negativi potrebbe non pagare perché bisogna attendere qualche mese poi magari le cose vanno malissimo ci mancherebbe però i numeri in questo istante a livello tecnico a livello di analisi e quindi di quelli che sono i fatti oggettivi che noi vediamo in questo momento non ci indicano quella direzione con una probabilità alta bensì ci indicano la normale fase di chiusura di un ciclo annuale io aspetterò l'inizio del nuovo annuale di Nasdaq e non mi nascondo farò anche qualche trade a proposito se volete sapere come fare appunto questi trade io utilizzo o i future reali ma i future reali sono molto costosi dovete avere tanto capitale oppure se volete fare dei test utilizzate i cfd che nel caso i test vanno bene comunque o gli etf ragazzi per replicare questi tipi di indici di borsa per quanto riguarda i cfd e le azioni vi lascio un link in descrizione di quello che utilizzo io ne utilizzo diversi comunque vi lascio i tractive broker e xtb su interactive broker trovate anche i future ovviamente quelli regolamentati potete tradare anche il mini future come i grafici che stiamo vedendo in questo caso allora detto questo passiamo all'ultimo grafico quello più figo da un punto di vista più diverso direi non più figo l'oro ragazzi l'oro dopo la sua grande diciamo fase di alzista quella che era avvenuta dall'inizio del 2000 dal 2004 viene presentato l'etf del gold e incomincia la fase di risalita anche per l'accumulazione della cina da parte del gold il settennale 2793 giorni più lungo del solido perché iper realzista un altro settennale 2590 giorni un altro settennale che dovrebbe essere stato chiuso intorno a questa zona qui proprio quindi intorno a 2520 giorni ok ma dove stiamo adesso per quanto riguarda il gold quello che sta facendo è assolutamente abbastanza evidente intanto il gold ragazzi ha una super resistenza in questa zona 2080 circa dollari per oncia e tra le altre cose ci si sta avvicinando in maniera evidente il gold ha probabilmente chiuso il suo ciclo annuale il primo ciclo annuale di questo nuovo ciclo come dicevo da circa 7 anni e questo è ampiamente significativo ragazzi perché ampiamente significativo perché se dovessimo andare a breccare questo livello sarebbe secondo me con grande probabilità confermato l'inizio del ciclo settennale per quanto riguarda l'oro e anche tante altre cose da un punto di vista anche tecnico per esempio sarebbe confermato forse il fatto che tutto quelle che sono le valute fiat dovrebbero iniziare ad essere incrinate si dovrebbe incrinare anche secondo me l'affidabilità delle valute fiat e questo si legherà si legherebbe anche con le questioni bitcoin ovviamente lì è tutto un esperimento però interessante sarà a vedere proprio nei prossimi anni allora questa struttura ci dice che qui è iniziato un nuovo ciclo annuale per quanto riguarda il gold con una buona probabilità ma anche il gold come gli altri se non rompe questo livello di resistenza non c'è trippa per gatti ma sopra questo livello di resistenza sarebbe il più grande segnale di analisi tecnica che il gold ha da circa due anni e mezzo tre e sarebbe importantissimo perché tra le altre cose questo livello è molto simile anche al livello di massimo raggiunto nel 2011 quindi in realtà è vero che se noi andiamo a modificare diciamo a verificare un po' il gold questa fascia di prezzo è importantissima perché dura da oltre 12 anni ragazzi quindi non è soltanto una livello che magari dura da due anni e mezzo ma una fascia di prezzo che dura da oltre 13 anni questo è significativo secondo me in un contesto dove noi abbiamo la possibilità di avere il breakout di questo livello con un ciclo settennale che è appena iniziato nulla vieta che questa volta il breakout sia quello corretto quindi se da qui non siamo riusciti qui c'è stata la chiusura del settennale poi da qui potremmo in effetti riuscire allora come si legano i puntini allora essi legano ragazzi in alcuni modi un po' particolari intanto fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste analisi che vedono una attesa per i mercati classici come Standard & Poor's Nasdaq e quindi in generale tutti perché poi sono collegati sono correlati i mercati classici e vedono un'attesa di partenza non ciclo annuale e in caso di mancato superamento dei massimi precedenti e di quelli del 2022 li inizierebbero ad esserci un problema da valutare in maniera seria punto numero 2 il gold come lo sposiamo con questa fase nuova che in effetti potrebbe anche arrivare a breccare per la prima volta quest'area di resistenza intorno ai 2080 dollari che sarebbe anticipatorio di un movimento rialzista imponente che magari imponente non lo sappiamo però importante perché di solito quando avviene un mercato del genere poi si genera anche una sorta di mini bolla speculativa e quindi questo può causare una impennata fermo restando che parliamo sempre del gold e che quindi le oscillazioni in termini di volatilità non sono paragonabili a quelle magari del nostro amato bitcoin o di altre criptovalute o di stocks che sono un po' più sottili e quindi si possono muovere in maniera estremamente più aggressive del gold però questi puntini si potrebbero in effetti creare perché se il gold è uno strumento difensivo le monete fiat perdono un po' il loro appeal e la stabilità che hanno avuto nel corso del tempo e vi ripeto qui si tratta di cicli settennali potrebbero legarsi in questo modo con il gold che diventa un po' difensivo e quindi assume più forza gli indici azionari che non riescono a breccare i livelli di massimo e quindi tornano indietro e di conseguenza insomma tutto si lega in maniera abbastanza definita quindi una specie di iperrecessione dal giugno in poi del 2024 però questa cosa al momento è un'opinione un'immagine che noi ci siamo dati perché ragazzi anche sulle azioni non dicono questo i grafici in questo momento dobbiamo attendere questi due tre mesi ma dopo qualche risposta potremmo averla e questo sarà estremamente interessante dal mio punto di vista cosa ne pensate voi e facciamo un gioco cosa ne pensate voi su bitcoin come si lega bitcoin con uno scenario creato in questo modo cosa ne pensate scrivetelo nei commenti e magari poi perfezioniamo un nuovo video anche dove insegniamo anche le cripto in questo contesto ciao a tutti